È difficile rispondere a questa domanda, sono trovati i giocatori, devo dire la verità, queste domande mi creano molta difficoltà perché pensare ad altri giocatori, diciamo a un giocatore che non sono qua si dovrebbe sminuire un po' quelli che non faccio solo. Per me un traditore è andato a guidarmi con la squadra. Prima di tutto, nel spogliatorio ancora non ci sono tutti, quindi ognuno ha per un momento la sua parere, però la Juve è sempre stata una squadra da partire per noi, quindi che ci sia salvo io o no per noi, a me cambia nulla. Per arrivare alla fine una grande lupo in edizione, qual è la scelta? Qualcosa manca sicuramente, devo dire che l'anno scorso abbiamo recato un gerone difficilissimo e siamo arrivati a passare in turno. Quest'anno credo che il fatto, come abbiamo detto, che vogliamo migliorare la qualità nostra sotto tutti gli aspetti e la speranza anche di non beccare un gerone così difficile. Credo che sarà un gerone, sicuramente i geroni di Champions sono sempre molto complicati, ma il Liverpool non sarà in terza fascia, cioè abbiamo beccato la squadra che ha vinto la Champions in terza fascia e abbiamo, diciamo, anche avuto il piacere di parte di quando abbiamo giocato a San Paolo.